ciao a tutti ragazzi sono carline e benvenuti a questo nuovissimo video di minecraft oggi siamo in compagnia di tommy e oggi ragazzi questo video saremo in una mappa e allora mi metto subito basta asciugo cominciamo subito tommy calma tommy sta immobile si gioca ti odio hai visto le battute cosa c'è nella cassa nella cassa c'è del grano hai visto come sono andato a dare le battute no ma sono pure con le schiacciate cominciamo ragazzi praticamente no infatti questo è find button sarebbe trova il bottone nella mappa dobbiamo trovare un bottone nascosto come sta negli alberi uno certo sicuramente hai visto per caso un buco negli alberi non è che devi eccolo guarda che livello due città ragazzi questo lo divideremo in due parti certo certo sarà tipo parkour spiral sarà parti ragazzi questa roba non ci possiamo neanche picchiare ah guardate per me attenta al quad trick dietro le porte quelli là che ho trovato davvero ma guarda che occhio di falco dove sta eh 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 eccoci parco bella la eccoci Non è che... Ah, se non mi sopra la fontana devi... Ah, tu mi puoi salire sugli alberi qua. Sto sulla fontana. Ma qualcosa tu già l'hai studiata di questa mappa. Non l'ho mai presa, l'ho vista poi. Mmm, cosa qua? Come hai fatto a salire? Eccolo qui! Dove? Qui! Ma che occhio c'hai? La stazione di benzina. Che schifo, sento l'odore di benzina. Com'è? Trick! No, nessun trick. Poi mi ho sbagliato. Carmine, io mi metto la pezza. Va bene. Qua c'è un bottone, questo? Era quello. Ma stava lì per la vista. Cosa? Cosa? Ma che stai lì? Ma cosa nel bottone lì per la vista? Ma questa mappa è brutta. Ma cosa? Era lì quel bottone che mi chiamava Carmine. Sono qui davanti a te. Ma cosa? Ma cosa? Allora, qua secondo me c'è un bottone di bett... Eccolo! Siamo qui insieme. Prigio... Eh... Ecco. Possiamo entrare? Non possiamo entrare. Prison. Non possiamo entrare nella prigione. Cami, aspettate, sono le mie teste che devono andare a spondare la porta. Eccolo! Eccolo. Cosa c'è? La farm! Eh... Ma secondo me è un trollo. Vediamo. Non è un trollo. Non è un trollo. Ma cosa? Buongiorno. Eh, ma questo... Ma pensavo di averlo già trovato. No. Allora, non voglio queste mappe con la pietra perché la pietra ti confonde dappertutto. Guardate bene da tutte le parti. Non si sa mai. Perché il bottone potrebbe essere... Eh, sì! Tommy, avevo un bottone nell'inventario. Dai. Eh, ma cosa dice? Dice qualcosa perché non... Elementi. E dove lo posso piazzare? Ah, gli elementi dei blocchi. E dove lo posso piazzare? E non solo da qualche parte. Sulla pietra. Sulla pietra, secondo me. Non posso da nessuna parte io. Ah, non puoi prenderlo. Boh. Posso... Tu non puoi mettere le cose sui blocchi? Carmine, ma siamo stati... Vai! Ecco! Ma no, no, Tommy, basta. Ragazzi, questo mettiamoci un alimentare attimamente impazzisco. La macchina nella foresta. Non lo so, Tommy, non sei dotato. C'è un bottone sulla... Sulla ruota. Ah, vabbè. No, Carmine. Non ci credo! Una cosa... Carmine, io c'entro dentro. No! Non è che... Chiudo. No, ciao. Tommy! Mi sono intrapolato! No, mi date la mia scelta. Tommy, mi devi... Tommy, solo tu puoi trovare il pulsante. E l'ho trovato! Bravo, e prendo! Stavo le le zucche! Bravo. Allora, bank. La banca. Sarebbe... Come? Lo devo rubare! Tommy, devi trovare il pulsante. C'è scritto... Scusate e chiusa, va bene. Non ci sono... Non ci sono... Non mi... Allora, sicuramente sarà in una delle aiuole. Aiuole perché la pietra... Non credo, però dai. Ci può stare... Vediamo qua nei... Nei paraggi, non lo so. Lato, lato... Ah, Tommy l'ho trovato! L'ho trovato! Bravo, bravo! Stiamo facendo la pietra... Che livello è? C'è livello? Eh, levati! Non c'è livello, va bene. Non c'è... Allora, questo si chiama niente. Non si chiama niente, soli. No, Tommy è troppo grande questa strada. Non ce la troveremo mai il pulsante. La cosa bella è che non possiamo piazzare e non premere niente. Allora, vediamo in queste staccionate qui. Dove? Questo che mantiene le... Eh, io la stavo vedendo, se non lì potrebbe essere. Però... Cioè, no... Per forza, però... Non vuole finire. Tommy, dai, con il tocchio di falco! Sorprendici! Occhio di beccolo! Ma dove sei? Ma cosa... Fammi venire a vedere? Dov'è? Da qui! Dove, dove? Qui! Ah! Eh, con... Ma... No, 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 io non voglio trovare... Uh, costru... Costruzione... Belle, diciamo. Non è bello se che la stagione dice. Nice! Ma cosa si... Uh, un carro di pietra! Un carro di pietra? Che c'è... Tommy l'ho trovato! Ma come? Ma cosa? Sì, ti... E poi non lo so come si riega. Niente... Ah! Oh, c'è un parco giochi! Ciao! Buongiorno! Siamo... Siamo di ospitalità... Tommy l'ho trovato! Tommy, ma che cosa? Ah, abbiamo finito! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Allora... Eh... C'è... Ah, ma si apre il mio pulsante. Oh, abbiamo già finito! Ma come già abbiamo finito? Ma... Puoi uscire qua. È... È essere libero! Ma... C'è una scala di terra. Cosa conduce? Dov'è? Tommy! Come? Che dici? Che dobbiamo fare? Non lo so. Ma qua possiamo vedere tutti i livelli... Ah, quasi tutti i livelli che abbiamo. Stavo cadendo in un posto sconosciuto. Ma... Peccato che non ti posso bicchiare perché ti avrei buttato giù, eh. Ti lo giuro. Va bene, ragazzi! Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un commento e... Iscrivetevi al canale. Allora, ragazzi, questo video è durato pochissimo perché i livelli erano solo... Quanti erano? 16! Erano solo... Non mi ricordo bene. 16! E un cammino! 16 livelli! E io pensavo che sarebbero stati di più, però... Il video era questo, comunque. Eh, vabbè, noi ci vediamo la prossima volta. Adesso Tommaso la finirà con le schiac... Con le battute. No, ho detto che ci sono schiacciate. Basta. Basta! Basta! Dove sta? Un po' di grano? Eh, cosa vuoi? Un po' di terra? Dove sta il pulsante? Oh! Vieni qui! Ragazzi, ci vediamo la prossima volta! Dato l'ho bloccato! No! Ciao! Ciao! Ciao tutto a livello! Vai! Via! Dove sta? Andiamo, andiamo! Ragazzi, ci rifacciamo di nuovo tutto! Ci rifacciamo di nuovo... Però aspetta, mi non fai... Ok! Ragazzi, ci rifacciamo tutto! Eccolo qui! Cosa sta qui? Cosa sta qui? Poi c'era questo che stava bello qui! Questo qui dove era? Se non mi sbaglio era... Era qui? Ragazzi, ci stiamo rifacendo tutto! Questo era qui... Quello era lì! Questo era qua! Poi c'era quello là che stava là dietro e non ci ingannano più! Dove era? Eccolo qui! Ragazzi, ci rifacciamo tutta la mappa! Due in uno! Poi qua il pulsante della ruota che ho scoperto io stranamente! Togliti, voglio premerlo io! E io sono stato io a trovarlo! Questo tu non lo sai! Eh, dove sta? Nelle zucche qui, guarda! Ah, ok, ok! Perfetto! La banca, abbiamo detto che era nelle aiuole! Eccolo lì! Poi 13, quello senza numero dove il pulsante era qui! Poi... Qua il pulsante... Era nel carro! Nel carro di... Nel carro giallo con la pietra? Nel carro di Gino! Che Gino non lo so, ma non fa niente! Perfetto! Il 15... E poi era l'unico sto... Il 15 era qui dietro! Abbiamo rifatto tutto! Ebbè ragazzi, visto che abbiamo già fatto una intro finale, non mi metto neanche in F4! Un bacetto! Un bacetto! No, dammè non a me! È vero Tommy, non ti preoccupare! Dammè non a me? No! Ciao! Vabbè! Ragazzi, comunque, ci siamo già messi in F4, quindi facciamo una intro finale! Già l'abbiamo fatta! Aiuto! Vabbè! Noi ci vediamo la prossima volta! Ciao! 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 Che brutta l'intro finale! Cattivo! Non ci voglio più bene! Te voglio più bene! Grazie a tutti.